Si apre questa sera la 46esima edizione del PIF, premio internazionale della Fisa Armonica a Castelfidardo. Sul posto per noi, Samuele Sabatini. Buonasera da Castelfidardo, siamo al Parco delle Rimembranze, una delle location del premio internazionale della Fisa Armonica che prende il via questa sera. Cinque giornate con 60 eventi, 200 musicisti provenienti da 20 nazioni e con noi il direttore artistico Antonio Spaccarotella. Un'emozione e una soddisfazione? Sì, è una grande soddisfazione vedere per la prima volta, dopo questo periodo buio che l'arte e la musica in generale sta avvissuto, spero, Festival ritornare nuovamente in sella, totalmente live, con un cartellone super quest'anno che viene inaugurato da questa serata molto importante con Eugenio Bennato. La Fisa Armonica della Calabria è la bacchetta di Filippo Arlia, uno dei più interessanti e poliedrici direttori d'orchestra nazionali. E proprio poco fa abbiamo incontrato Eugenio Bennato, al quale abbiamo chiesto delle anticipazioni di questa serata, prevista alle 21.30 e dopo l'intervista linea allo studio. Si apre questa sera il PIF, lei il primo ad esibirsi. Cosa dobbiamo aspettarci dal suo concerto? Un incontro con un'orchestra, che è sempre un fatto speciale, un'orchestra vera, e poi un incontro con uno strumento, che è comunque presente, che trascuda dalle mure, dalle strade, dai negozi e della Fisa Armonica, che in qualche modo mi ricorda dei miei inizi, io ho iniziato da Fisa Armonicista. Un concerto caratterizzato da brani inediti? Ci sono dei classici che ho scritto un po' di anni fa, ma anche delle cose dell'ultimo ora. Io devo dire che la musica ha un potere descrittivo forte, importante, soprattutto in questo periodo, delle grandi problematiche, quali per esempio l'identità, opporsi alla globalizzazione, l'emarginazione, l'immigrazione, sono temi che possono diventare musica, per me appunto sono temi che esprimerò anche stasera. Passiamo allo sport.